Musica Si occupa il pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Musica 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 Davide finale, europei, calcio a sé, si affrontano Bulgaria e Spagna, arbitro dell'incontro Alessandro Passarella, vediamo i soliti interpreti Il saluto delle squadre Capitano già si avvia, Patacca Capitano ragazzi Che ricordiamo poche ore fa segna il gol del 2-0 Capitano Che regala la qualificazione alla Grecia Ragazzi Capitano della Bulgaria Il bulgaro 10 o testa? Testa Testa Questa è una venere Eh vabbè, Botticelli Paolo In bocca al lupo Primo tempo, ottavi di finale, europei, 6 contro 6, torneo targato SK Cap, Spagna-Bulgaria Arbitro dell'incontro Alessandro Passarella Vai 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.